Pachino, bomba d'acqua e canali ostruiti da Calciastruzzo, Petralito, denuncia, sabotaggio, ma non ci fermeremo. Nel corso di una riunione della Giunta Municipale svoltosi ieri presso la sede della Protezione Civile per fare il punto, insieme ai dirigenti del settore interessati a programmare gli ulteriori interventi, sono state esaminate le varie emergenze dovute alla bomba d'acqua che ha colpito Pachino sabato scorso, un ostacolo che ha contribuito agli allagamenti che si sono registrati a Pachino a partire dal pomeriggio di sabato scorso per via di un nubifragio improvviso, un atto di sabotaggio pericolosissimo emerso nel corso del sopralluogo effettuato dal Capo dell'Amministrazione di Pachino insieme ai tecnici. Stamattina, afferma la Sindaca Carmela Petralito, mi sono regata con l'assessore all'ecologia Angelo Luciano presso il commissariato di Pachino per presentare formale denuncia di un gravissimo fatto emerso durante gli accurati sopralluoghi da noi svolti. È infatti davvero incredibile, prosegue la Sindaca, come il canale che porta al collettore delle acque bianche sia risultato pressoché totalmente ostruito da un enorme blocco di calcestruzzo che impediva il regolare deflusso delle acque. Non ci fermeremo, nei prossimi giorni sarò a Palermo per chiedere l'intervento del Governo regionale per i gravi danni subiti e spero nel sostegno di tutti i deputati regionali della nostra provincia conclude Carmela Petralito, Sindaca di Pachino.